ma non è possibile ora basta voglio proprio capire chi è che fa tutto questo casino mi sono stufato ora vado ma chissà chi sarà quest'ora andiamo a vedere sì chi è sono suo vicino oh prego giovanotto venga entri entri la vuole un po di acqua e menta no grazie signora potrei chiedergli abbassare un pochino la musica perché si sente eh sì si sente e allora mi può spiegare perché io so solo accendere e spegnere non sono capace certo però che bel sistema le piace me l'ha regalato il mio nipotino così sa la musica mi tiene un po di compagnia mi dispiace se vi do un'occhiata queste sono le creative sbs e 2900 un sistema di altoparlanti bluetooth 2.1 con subwoofer per tv e computer questo versatile sistema di altoparlanti 2.1 è il più potente della serie creative sbs e 2000 è possibile riprodurre musica tramite la più recente tecnologia bluetooth 5.0 ascoltare la radio tramite il sintonizzatore fm analogico incorporato e sentire direttamente gli audio tramite usb o scheda sd usando lo slot per la scheda sd o il lettore mp3 incorporato nella funzionalità plug and play per quanto riguarda la connettività tramite cavo con computer tv e altro si può utilizzare il jack aux in da 3,5 mm in dotazione e per completare il tutto è possibile accedere e cambiare facilmente le impostazioni per la regolazione del volume e della riproduzione direttamente dagli altoparlanti o personalizzare le impostazioni di alti e bassi dal telecomando infrarosso in dotazione si tratta di un potente sistema di altoparlanti bluetooth con prestazioni audio incredibili con 60 watt rms e fino a 120 watt di potenza di picco gli altoparlanti sono dotati di driver a lungo raggio per un'esperienza immersiva con un audio completamente avvolgente inoltre e 2900 è dotato di un led retroilluminato con intensi toni di viola rosso e blu le dimensioni del subwoofer sono di 17 centimetri di lunghezza 33,5 centimetri di profondità e 31 centimetri di altezza le dimensioni del satellite sono di 10,5 centimetri lunghezza 10 di profondità e 17 di altezza ma entriamo più nel dettaglio creative indica come rapporto segnale rumore circa 75 decibel una risposta in frequenza di 50 20 mila hertz infine in dotazione si trova anche un telecomando con impostazione dei contenuti tra i bassi e alti il telegomando può essere utilizzato anche per regolare l'audio il volume e la riproduzione musicale dagli altoparlanti potete trovare creative sbs e 2.900 su bpm power.com cliccando sul link riporto qui in basso in descrizione se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube mettere un mi piace alla pagina facebook e a seguirci su instagram mi raccomando non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video allora signora guardi molto attentamente con questo il più si alza con questo almeno si abbassa prego ah va beh facciamo che glielo imposto io no oh grazie che bravo fiel ok adesso è a posto ah ma me non si sente niente così però ma no si sente come si sente ma giovanotto mi stai dando della sorda no no non mi permetterei mai assolutamente ti mancherebbe ecco adesso si che si sente ma è altissimo ma cosa dice su giovanotto diamoci dentro io io Grazie a tutti.